Domenica 15 settembre a Ischia tanti appuntamenti con la prima delle due giornate ecologiche nell'ambito del Festival della Filosofia di quest'anno, giunto alla decima edizione tra le associazioni coinvolte anche la Fidas con una donazione speciale proprio nel centro di Ischia. Esattamente, noi saremo presenti a Piazza degli Eroi già dalle 8 del mattino perché è l'orario che l'auto emoteca arriva ad Ischia e invitiamo le persone a venire a donare. Chi può donare? Può donare chi ha un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, che sia in buona salute e non stia facendo una particolare terapia farmacologica. È consigliata una colazione. La colazione deve essere una colazione leggera composta di caffè o tè e da escludere assolutamente il latte e dei biscotti secchi. Questa è consigliata perché aiuta a sopportare, ad avere una miglior donazione e quindi noi invitiamo chi volesse venire a fare colazione. Ricordiamo ovviamente che prima della donazione c'è comunque un momento di visita medica, un controllo per verificare che le condizioni ci siano per la donazione. Esatto, viene fatto un piccolo prelievo, una punturina sul dito per poter valutare lo stato dell'emocromo. Se lo stato dell'emocromo è favorevole alla donazione si effettua, altrimenti la persona non viene salassata perché non ci sono le condizioni e quindi potrebbe soffrire la donazione. Questo è un attimo il motivo per il quale si fa questo controllo. Ricordiamo che si tratta di una pratica fondamentale per il trattamento di tantissime patologie. Siamo immediatamente dopo l'estate, forse il periodo più tragico per i malati che hanno bisogno di assistenza attraverso le trasfusioni. Sicuramente stiamo ancora in grossa difficoltà, quindi c'è soprattutto carenza del gruppo 0 e di tutti i gruppi negativi ad esclusione dell'ABI negativo. Quindi invitiamo chi ha questo tipo di sangue a venire a donare.